Amenta, costruire ponti di dialogo e confronto politico con tutte le anime del campo progressista per le prossime amministrative a Siracusa. Il Presidente Provinciale del PD di Siracusa, Paolo Amenta, al momento facente funzione anche di segretario provinciale dopo le dimensioni di Salvadorno, fa chiarezza sulle sue dichiarazioni apparse stamane su un articolo di blog Sicilia.it, fuorviate dal titolo che vorrebbe un sostegno del PD alla ricandidatura del Sindaco di Siracusa Francesco Italia alle prossime amministrative del 2023. Non ci si può far condizionare da un titolo giornalistico, sottolinea il Presidente Paolo Amenta, senza coglierne il contenuto che, al di là di alcune forzature che non mi appartengono, ha un significato tutt'altro che decisivo per quanto riguarda la posizione del PD alle prossime amministrative del Comune di Siracusa. Non ho detto che sia chiaro, nel pieno rispetto del dibattito aperto all'interno del circolo di Siracusa, che il PD sosterrà Francesco Italia sic et simpliciter, ma piuttosto che ritengo più opportuno per il fronte progressista, alla luce dei recenti risultati elettorali delle elezioni nazionali e regionali, che hanno visto il centro-destra prevalere su tutti i fronti, che si riapra un confronto e un dialogo costruttivo con tutte le parti di quello che oggi appare il diviso e frastagliato campo progressista, compreso il Movimento 5 Stelle. Ritornare al dialogo per costruire ponti con quel mondo dal quale siamo partiti mi sembra una scelta non gimirante, se non si vuole consegnare anche il Comune capoluogo ad un centro-destra che si rafforza e si prepara, come si legge dalle croniche politiche, a mettere in campo tutte le proprie truppe pesanti. D'altra parte, ricordo a me stesso e a quanti l'avessero dimenticato, che il PD ha sostenuto e contribuito alle elezioni di Italia, che anche oggi, seppur divisi, parti del PD sono all'interno e nell'anturrage dell'Aggiunta Italia. Costruire, confrontandosi con le altre anime del campo progressista, ad iniziare dal terzo polo anziché demolire, non può essere oggetto di sterile polemiche se si vuole guardare al futuro, portando naturalmente come dote progetti e proposte di crescita di Siracusa e di tutto il territorio sracusano in un momento di grande difficoltà economica e sociale. Questo, ho detto, conclude il Presidente Menta, nel mio ruolo di dirigente provinciale del Partito Democratico, senza alcuna prevaricazione e in linea con quelle che sono, tra le altre cose, anche le basi di discussione e di confronto congressuale, al quale come PD siamo chiamati, affrontando con serenità e lucidità il momento, cancellando ogni segmento di risentimento che, nel caso nostro, porterebbe a consegnare un'ulteriore vittoria al centro-destra, afferma in una nota Marco Monterosso.